Turno infrasettimanale in lega di basket con l'Epicasa Brindisi impegnata in trasferta a Varese contro la Open Joe Matis che dopo i 16 punti di penalizzazione si trova all'ultimo posto in classifica. Il match di andata se lo giudicò la formazione di coach Brasi che si impose per 104-90 e non bastarono i 31 punti di Reid MVP della gara. Rispetto a quella partita sono cambiate molte cose, soprattutto per i biancazzurri di Frank Vitucci che nel girone di ritorno hanno scritto 8 vittorie e 3 sconfitte e a 4 giornate dal termine della regular season puntano alla migliore posizione nella griglia playoff. Sfida non facile, quella del palasport Lino Oldrini di Varese con i padroni di casa a caccia di punti salvezza. Squadra ben allenata, la Open Joe Matis gioca un basket fatto di difesa sfissiante uno contro uno e micidiali partenze in campo aperto con coinvolgimento di lunghi ed esterni. Primo realizzatore dei Lombardi al play Ross, vera anima del quintetto, bravo nel distribuire il gioco e a trovare gli spazi per le soluzioni personali. Con doppia cifra nelle mani, la guardia titolare Michael Brown, oltre 16 punti a partita, giocatore esplosivo dotato di un buon tiro dalla media. Non da meno, il numero 3 Johnson, bravo sugli scarichi per un tiro aperto, pericoloso quando tira piedi a terra. Primo lungo per coach Brasi è Tariq Owens, pivot leggero, spesso chiamato sul pick and roll centrale, che conclude molte volte con una schiacciata. In un team dove le guardie giocano la maggior parte dei palloni, Thomas Waldatensai tocca il campo per circa 28 minuti a partita, scrivendo quasi 10 punti di media. Panchina poco esperta, ma che è cresciuta tanto nel corso della stagione, a cominciare da Caruso, pivot che fa farsi trovare pronto al posto giusto, in aria, dopo la penetrazione di un piccolo. Cambio da regista titolare Giovanni De Nicolao, buon difensore e poco offensivo in attacco, ma si ha la possibilità, non rifiuta un tiro dall'arco. Insomma, una squadra che segna tanto, considerando che le statistiche dicono essere il primo attacco della Lega, con 91,3 punti di media. Sul fronte Biancazzurro, coach Vitucci dovrebbe aver recuperato l'EM, ma solo prima del match si deciderà se utilizzare o meno il giocatore. Nella Enel Xenia Arena, palla in due ore 20.45, arbitri Tolga Sain, Edoardo Gonella e Daniele Valeriani.